buonasera e benvenuti alle parole della fede e benvenuto don pino lorizio che dopo averci accompagnato tutta la settimana da casa oggi ci ha fatto il regalo di essere in studio grazie dell'invito per festeggiare la tua presenza in studio ti ripresento sei teologo insegni teologia fondamentale alla pontificia università lateranense teologa è anche la nostra ospite teologa islamica sharazad usman collegata con noi da teran ciao sharazad buonasera a tutti voi buonasera al mio professore professor lorizio allora don pino cominciamo da te come al solito ricapitoliamo insomma le quattro parole chiave a cui siamo arrivati fin qui e che sono parole che devono rispondere alla domanda della settimana che si conclude presente un dio presente nella nostra vita nella misura in cui siamo aperti ad esperienze umane e interpersonali autentiche e quindi nella misura in cui siamo disponibili a donarci in quando lui si è donato quindi è questo dio stesso che è dono e ci raggiunge nella nostra vita di tutti i giorni parlare del dell'identità di dio ci ha portato in questi giorni a interrogarci sulla sulla verità e allora la domanda di oggi a che fare proprio con questo con la verità nelle altre religioni e quindi la domanda è che cosa c'è di vero nelle altre religioni proviamo a rispondere forse dobbiamo cambiare mentalità perché avevamo una mentalità secondo cui se il cristianesimo è la verità tutto il resto è falso nel in tutto il resto c'è solo negativo c'è solo male c'è solo falsità ma ovviamente questo non è vero non può essere vero perché non siamo come i computer non off con la logica binaria no ti accendi o ti spegni o sei vero sei falso perché nell'universo e nell'uomo ci sono i semi del verbo cioè l'universo in quanto creato da dio in quanto ciascuno di noi è creatura di dio in quanto ogni popolo ogni nazione ogni appartenenza a la traccia dell'infinito ecco contiene dei frammenti di verità e questi frammenti di verità noi cristiani dovremmo essere educati a leggerli interpretarli ad accoglierli e poi anche magari a rilevare delle criticità che si possono rendere presenti in altri appartenenzi come nella nostra anche cerazate ti faccio la stessa domanda però ovviamente nella prospettiva islamica che cosa c'è di vero dal punto di vista islamico nelle altre religioni vabbè da un punto di vista storico forse l'islam è avvantaggiato qui perché viene dopo il cristianesimo e a questo punto sappiamo bene che che il corano conferma la verità di gesù cristo conosce gesù cristo come come profeta come messaggio come spirito di dio come verbo di dio e conosce anche la sua madre maria vergine allora in questo senso l'islam vede la verità nel cristianesimo e nella figura anche centrale che ha il cristianesimo che gesù cristo sicuramente ci sono delle differenze per esempio il mistero trinitario non viene elaborato nell'islam come viene elaborato o compreso o dichiarato nel cristianesimo però è interessante che per esempio vediamo ogni capitolo tutti i capitoli del corano iniziano con una formula trina che è nel nome di dio amore e misericordia allora vedere la verità nelle altre religioni si trova anche in una sola parola nel corano con questa simbologia che la parola nur luce e al singolare in tutto il testo coranico ma tenebre e al plurale allora dove c'è la luce a un'unica origine ed è l'unico dio creatore di tutti i mondi della terra e dei cieli dell'essere umano e degli animali e poi soprattutto l'islam e cristianesimo dichiarandosi monoteisti credono profondamente in un unico dio allora la verità più importante tra l'islam e cristianesimo è proprio il dio uno come lo dice anche l'uman gentium i musulmani credono con noi nell'unico dio e poi anche nostra età lo riprende vorrei una domanda biografica tu hai studiato prima lo dicevi sei stata l'una di don pino la teologia cristiana e quella islamica che cosa ha provocato in te una confusione un arricchimento il sincretismo così parola pericolosa all'inizio all'inizio infatti quando ascoltavo pure professor l'orizio alla pontificia unica università lateranense come studente e lui era comunque un professore eccezionale ma un linguaggio abbastanza anche difficile e comunque tutto questo confrontarmi così profondamente col cristianesimo devo dire che mi ha fatto patire perché dovevo correggere certi pregiudizi dovevo allargare la mia visione sulla verità che non era solo nell'islam ma la ritrovavo anche nelle parole del cristianesimo non ha creato confusione ma devo dire che mi ha all'inizio scossa questa proprio questo mi ha scosso questo incontro ma dopo ho capito che l'incontro con l'altro ti apre un mondo e praticamente l'altro diventa un'altra parte di te come amava dire anche Raimon Panikar che ho conosciuto anche in questo senso la conoscenza col cristianesimo veramente mi ha dato la possibilità di rileggere anche il testo stesso coranico e ritrovare altre bellezze anche nel testo coranico un confronto diciamo molto fruttuoso. Questa è l'esperienza di chi come te ha avuto la possibilità di studiare e approfondire ma qual è invece la percezione nella gente comune abbiamo come al solito vi abbiamo fatto una domanda e la domanda di oggi era c'è qualcosa di vero nelle altre religioni sentiamo un'anticipazione delle risposte che poi sentiremo in maniera completa dopo la pubblicità. Ogni paese ha la sua religione anzi dovrebbero convivere tutte queste religioni credo che in ogni religione ci sia della verità qualcosa di vero perché secondo me Dio è uno il fondamentalismo mi spaventa. Di nuovo in diretta c'eravamo lasciati con la domanda che vi abbiamo rivolto oggi c'è qualcosa di vero nelle altre religioni sentiamo la risposta. Ogni paese ha la sua religione anzi dovrebbero convivere tutte queste religioni secondo il mio punto di vista. Nelle altre religioni certo che c'è qualcosa di buono perché c'è lo spirito del Signore che è spirito di amore e quindi lo spirito va in tutti gli uomini, gira in tutti i cuori degli uomini e questo lo vediamo dal quanto amore, da quante opere buone ci sono anche in chi non crede, anche in chi è ateo, anche in chi è in una religione che è totalmente lontana da quella cristiana. Io penso di sì perché la lingua dello Spirito Santo, la lingua di Dio è una lingua che va al di là delle nostre lingue, delle nostre culture, della nostra storia. E' un qualcosa che è molto più grande rispetto a quello che possiamo capire. Credo che in ogni religione ci sia della verità o qualcosa di vero perché secondo me Dio è uno. E' poi l'uomo che ha costruito tante religioni in base alle proprie tradizioni, alle proprie credenze ed è per questo che esistono tante religioni. Ma secondo me Dio è uno ed è per questo che in ogni religione c'è un fondamento di verità e qualcosa di vero. Noi crediamo tutti in un solo Dio perché uno è unico, ognuno lo interpreta a modo suo. Le altre religioni si sviano perché se Dio ci ama non dobbiamo fare del male. In quelle che credo in Dio, sì, il fatto che credo in Dio, per il resto devo dire che non le conosco molto bene e comunque il fondamentalismo mi spaventa. Perché rappresenta poi la parte più estremista e l'estremismo secondo me non è mai positivo. Don Pino, i due estremi che possono esserci rispetto a questa domanda sono da un lato il fondamentalismo, dall'altro il sincretismo. Il relativismo. Il relativismo. Come si sta in mezzo? Cioè qual è la strada giusta? In mezzo si sta... Percependo la profondità della propria appartenenza. E farlo nel dialogo mi sembra molto importante. Come è stato detto prima da parte di Sherazad, cioè che lo studio del cristianesimo l'ha aiutata anche a riscoprire l'islam. Così deve essere per noi. La nostra identità ci deve portare a dialogare, a incontrare e quindi a non aver paura. Chi ha paura del dialogo vuol dire che non è sicuro della propria identità. Il fondamentalismo invece è ritenere che la propria verità significhi disprezzare gli altri. E questo disprezzo a volte diventa anche violenza. Io ho combattuto molto e continuo a combattere dal punto di vista anche mediatico, dicendo togliete per favore l'aggettivo religioso e l'aggettivo islamico dalla parola terrorismo. Sherazad, stessa domanda. Il fondamentalismo? Ma anche il relativismo, no? Perché qua il rischio è questo, no? Io sì, confermo pienamente le parole delle persone. il professore Lorizio, perché innanzitutto il Corano parla dello Spirito di Dio che non solo soffia dove vuole, ma vive dentro ogni essere umano. Anzi, l'uomo, ogni singola persona umana, vive grazie allo Spirito di Dio che ha dentro. Dice Io ho creato l'essere umano e ho soffiato dentro di lui il mio stesso Spirito. Allora, non esiste uomo che abbia la vita e non abbia lo Spirito di Dio dentro. Allora, noi, ripeto, come monoteisti dobbiamo sapere che non può esistere un luogo dove non c'è Dio. E questo fa parte anche della liturgia islamica. Però ci sono gli egoismi, i fondamentalismi, gli estremismi, che si chiudono a quell'uno che è poi essenzialmente amore, come lo presenta il Vangelo e come lo presenta il Corano all'inizio di ogni suo capitolo. Dio, amore e misericordioso. Allora, in questo non è né sincretismo né confusione, ma l'incontro col Dio che si trova dovunque, perché Lui è colui che sussiste ogni essere umano, vegetale, animale, la vita stessa. Così ci ha spiegato anche il senso un po' dell'incontro. Andiamo a vedere che cosa dice il Catechismo al numero 843. Leggiamolo insieme con la grafica e chiedo alla regge, eccolo qua. La Chiesa considera tutto ciò che di buono e di vero si trova nelle altre religioni come una preparazione al Vangelo. Don Pino, come dobbiamo leggerlo questo? Lo dobbiamo leggere nel senso che i semi del Vangelo, i semi del Verbo, sono presenti ovunque. Dobbiamo leggerlo nel senso appunto di essere simpatetici con le altre appartenenze, alle quali anche dobbiamo chiedere di essere molto decise nella condanna della violenza. Cioè le religioni proprio a causa della... E lo spirito di Abu Dhabi... E di essere fratelli tutti, dovrebbero essere sempre molto molto decise nel denunciare ogni forma di violenza e nel prendere le distanze da ogni forma di uccisione dell'altro. Da questo punto di vista, Charazzad, in dieci secondi sono stati fatti grandi passi in avanti con la dichiarazione sulla fratellanza universale firmata ad Abu Dhabi l'anno scorso. Assolutamente. Questa è una rivoluzione nell'incontro tra l'islam e il cristianesimo. Solo l'inizio, l'apertura, secondo me, dice tutta la verità che abbiamo bisogno. Loro due insieme scrivono questa frase, che secondo me è proprio il succo della religiosità. Scrivono Imam Ahmad al-Tayyeb e Papa Francesco questa frase nell'apertura. La fede porta il credente a vedere nell'altro un fratello da sostenere e da amare. Dalla fede in Dio, che ha creato l'universo, le creature e tutti gli esseri umani uguali per la sua misericordia, il credente è chiamato a esprimere questa fratellanza umana, salvaguardando il creato e tutto l'universo e sostenendo ogni persona, specialmente le più bisognose e povere. Questo per me è il succo del senso religioso. Dopo la dichiarazione di Abu Dhabi, scusa Cerazzate ma abbiamo i secondi contati, dopo la dichiarazione di Abu Dhabi c'è la dichiarazione di Dompino sulla parola del giorno che ti pregherei poi di legare rispetto anche alla domanda della settimana. La parola, vi stupirà, è frammento. Frammento. Noi siamo di fronte ad un'umanità frammentata. È frammentata in appartenenze, in luoghi, in ideologie, in povertà, in ricchezze. Ecco, dentro ogni frammento dobbiamo scorgere il vero. Allora, in quale Dio crediamo, era la domanda, nel tutto nel frammento. Cioè in un Dio che è tutto in questi frammenti di umanità, frammenti cui apparteniamo, che non siamo chiamati a cestinare, ma siamo chiamati a raccogliere, integrare e tenere insieme. Ma noi di Dio, scusate, siamo fuori tempo, ma di Dio possiamo conoscere solo un frammento, anche noi perché siamo piccoli e frammentati? Che cos'è l'ostia, se non è un frammento, in cui però c'è tutto. Grazie Don Pino. Ecco, dal frammento si risale al tutto. Al tutto. Grazie davvero Don Pino, grazie Shara Zad. Noi ci rivediamo lunedì prossimo, sempre alle 19.30. Buona serata. Noi ci rivediamo lunedì prossimo, sempre alle 19.30. Noi ci rivediamo lunedì prossimo, sempre alle 19.30.